Mi scuso preventivamente per la mia tremenda tosse. Allora, l'emiciclo di oggi è un po' diverso ed è anche uno dei più difficili per me. Vi avevo annunciato che gli emicicli di queste settimane che precedono il voto sarebbero stati un po' più spostati verso altri argomenti, non perché la politica interna non abbia il suo fascino e la sua importanza, ma perché chiaramente capite da soli che i tafferugli e le scaramucce fra Lega e 5 Stelle hanno cominciato a scocciare, cioè questo Siri non si sa che forse si dimette o meno, probabilmente sì, forse prima, forse dopo l'Europa, ma insomma aspettiamo l'Europa e nel frattempo dediceremo al cabotaggio interno il giusto spazio senza spendere troppe parole inutili. Oggi invece voglio dedicare uno spazio importante a un argomento che mi sta molto a cuore, che è quello della illegittima difesa made in Salvini. Allora, premetto una cosa importante, io non mi occuperò del caso di Monterotondo, non mi occuperò del caso di questo ragazzo per un motivo molto semplice, che questo ragazzo lo conosco benissimo, questo ragazzo è stato mio compagno di classe e di banco, è stato ed è mio amico, è una persona per bene e siamo stati compagni anche all'università, quindi onestamente è una persona di cui conosco l'intera famiglia e non posso nella maniera più assoluta essere oggettivo di fronte a una persona che conosco così bene. Non so come siano andati effettivamente i fatti, aspetto che ci sia un accertamento da parte della magistratura, aspetto che le cose vengano chiarite, mi auguro di cuore che ne esca pienamente pulito, perché sarebbe una tragedia se così non fosse, voglio credere alla sua buona fede, voglio credere alla sua buona fede, penso anche che sparare una persona conoscendo Andrea sia l'ultima cosa che avrebbe voluto fare nella sua vita, mi auguro di cuore che venga prosciolto, penso che conoscendolo non avrebbe fatto male una mosca, anche se è uno che ha una stazza fisica e una statura complessiva notevole, oltretutto è veramente un maestro anche nelle arti marziali, quindi lo conosco bene ma non vado oltre, non dico altro perché la questione mi coinvolge troppo da vicino e non potrei essere oggettivo. Voglio dire questo sulla legge fatta a provare manu militari da Salvini, è firmata molto di malavoglia da Sergio Mattarella, con tutta una serie di paletti e di notazioni che di fatto lasciano presupporre una bocciatura da parte della consulta, parliamoci chiaro. Questo presidente è tendenzialmente firma, cioè la linea di questo presidente è io firmo, dove non sono d'accordo lo dico in maniera esplicita, poi sia la consulta a decidere. E' giusto, è sbagliato, è pienamente legittimo. Io come presidente forse in un momento così delicato avrei preferito lo stile di un Ciampi, che da azionista non avrebbe mai firmato alcune cose, ma non è che lo stile di Mattarella, presidente che stimo in maniera profonda, sia sbagliato. Lo stile di Mattarella è semplicemente diverso. Mattarella dice, io non posso firmare solo le leggi con le quali sono d'accordo, anche perché probabilmente non avrebbe dovuto firmare quasi nessuna legge delle ultime due legislature, devo firmare anche le leggi che non mi piacciono, dove ravviso dei limiti molto forti, lo faccio presente, dopodiché rimetto alla consulta. è stato così per l'Italicum, è così in occasione della legge di Salvini, è così e sarà così anche in tanti altri casi, per alcuni aspetti del Jobs Act, per alcuni aspetti della legge Madia e via discorrendo. Quindi è pienamente legittimo. Mattarella lascia presupporre di fatto una bocciatura da parte della consulta, che mi auguro di cuore grada al suolo questa porcheria. Ma una cosa la voglio dire esplicitamente. Questa legge presuppone di fatto un'Italia di Pecosbill. L'Italia non può essere un paese pieno di armi, le armi devono essere il meno possibile in un paese civile. Le armi in un paese civile dovrebbero detenerle solo le forze dell'ordine, che sono le uniche in quanto rappresentanti dello Stato titolate ad esercitare la violenza. Le armi in un paese civile dovrebbero averle solo le forze dell'ordine, per vigilare e tutelare la sicurezza di tutti i cittadini. La giustizia faida te non è ammissibile nella maniera più assoluta. Non è ammissibile nella maniera più assoluta. La logica della faida è una vergogna. Bisogna potenziare le pattuglie, bisogna dotarle di tutto quello di cui hanno bisogno, di volanti anche meglio equipaggiate, di tutte le attrezzature, di divise messe in tutto punto, di armi anche moderne. Ma ricordiamoci una cosa, che le forze dell'ordine pure hanno un dovere difensivo. Non offensivo, deve essere offensivo solo in pochi limitati casi, quando non se ne può fare a meno. L'Italia non può diventare, visto che oggi ricorrono i trent'anni dalla scomparsa di un gigante come Sergio Leone, e ne parleremo domani nell'emiciclo dedicato ai libri e alla cultura. In occasione del primo maggio parleremo anche del grande Sergio Leone con un libro di Sergio Leone che è uscito qualche mese fa per Il Saggiatore. Ma l'Italia non può diventare il set di un film di Sergio Leone. L'Italia non può diventare un paese di Clint Eastwood. Non ci si può rifugiare al fucile. L'Italia non può essere un paese in cui va a finire a duello. Non può succedere. Un paese democratico deve avere delle forze dell'ordine bene equipaggiate. Quest'idea che ciascuno si fa la giustizia da solo non ha senso, non è democratica. È una vergogna ed è anche pericolosa perché come vedete, come è accaduto nel caso di Monterotondo, poi a rimetterci, sono persone per bene che probabilmente senza un'arma in mano forse avrebbero fatto meglio. Questo è il discorso. Forse si sarebbero evitate da anti-guai come insegna pure questo caso di una persona peraltro per bene per bene che si è soltanto difesa con ogni probabilità. quindi attenzione attenzione perché noi abbiamo avuto i casi di persone che hanno sparato e hanno ucciso ora nessuno vuole giustificare il rapinatore nessuno vuole giustificare il lato nessuno vuole giustificare queste bande di delinquenti che oltretutto sono violente, malvagie, crudeli questa è gente che deve veramente in questo caso va bene anche dire che deve marcire in galera questa gente perché questa gente è pericolosa questa gente è ignobile questa gente è assolutamente da rimuovere dalla società non può stare nella società questa varmaglia questo è evidente ma non può essere la legge di Pecos Bill a risolvere questo deve essere la giustizia deve essere lo stato di diritto non può essere il privato cittadino lasciato da solo a farsi giustizia anche perché di fronte a un delinquente nel 90% dei casi il privato cittadino soccombe perché poi guardate che tutte le stronzate che si sentono tutti quelli che si fanno prudere le mani un conto è dire cazzate davanti al televisore un conto è trovarsi davanti a un uomo con un'arma in mano e sparare il delinquente non si farremo che la persona per bene sì chiaro? è la differenza tra un delinquente e una persona per bene e quindi la persona per bene con un'arma in mano davanti a un delinquente rischia di finire male quando ha in mano un'arma questo lo insegna chiunque sappia qualcosa di armi quando ha in mano un'arma se la prendi in mano davanti a un'altra persona o la adoperi o è peggio che se non ce l'avessi chiaro? quindi quindi meno armi girano e meglio è le armi non sono un fattore di sicurezza non garantiscono nessuno non fanno bene a nessuno se non i delinquenti questo è il punto quindi la legge di Salvini è una schifezza e spero che la consulta la rada al suolo e spero e concludo qui dicendo che i 5 Stelle la smettano di votare passivamente ogni porcheria di Salvini e salvaguardino anziché il governo un minimo di dignità se ancora ce ne hanno una anche perché ne va del futuro del paese che è spezzettato ridotto in poltiglia reso malvagio è un paese di cui il mondo intero si sta facendo beffe e di cui ogni volta che metti piede fuori d'Italia hai motivo di vergognarti questo è il punto quindi per favore caro Movimento 5 Stelle stacca la spina a questo stramaledetto governo fallo te che ne hai anche i numeri e affronta eventualmente le elezioni magari riduci un po' i tuoi parlamentari ma almeno non sparisci del tutto e si può aprire una nuova stagione anche perché Salvini a un certo punto ha fatto il pieno e secondo me se adeguatamente contrastato anche Salvini potrebbe a un certo punto cominciare a calare come finalmente è calata la destra peggiore in Spagna quindi bisogna prendere spunto e lezione e lezione Grazie.